La strada di accesso all'aeroporto di Napoli si rifà in Lucche e dopo dieci giorni riapre completamente ripavimentata. Dal rifacimento del manto stradale alla segnaletica orizzontale, i lavori di manutenzione straordinaria di Viale Fulco Ruffo di Calabria sono stati realizzati dalla GESAC in collaborazione con il Comune e la Settima Municipalità. Asfaltata su richiesta del presidente Solombrino, anche la strada di accesso alla scuola Ammaturo in via Cupa Carbone. Si tratta di un primo passo, sottolineano in una nota GESAC e Comune, verso il più ampio piano di riqualificazione dell'area antistante all'aeroporto, che punta a migliorare la viabilità e la sicurezza di passeggeri e turisti. Lavori di rifacimento del manto stradale sono stati realizzati inoltre a via Cupa Imparato, Corso Umberto, via Arenaccia e via Sartania, dove si è intervenuti anche sull'impianto di illuminazione. Si partirà entro settembre con via Manzoni e via Santa Maria a Cubito.